Si fa sempre più incisiva la lotta dei militari della Guardia di Finanza di Agrigento che utilizzano le innovative misure cautelari e amministrative per aggredire i beni degli evasori fiscali per un valore equivalente alle imposte e alle tasse non pagate, garantendo così allo Stato il credito vantato. Nell'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno sono stati eseguiti otto sequesti pari a circa 2 milioni di euro, in particolare il sequestro preventivo e la successiva confisca rientrano fra le misure di tutela che lo Stato ha introdotto con la legge finanziaria del 2007, estendendo la possibilità di colpire i patrimoni personali anche nell'ipotesi di reato tributario. Più spesso l'esecuzione del sequestro per equivalente fino alla concorrenza del debito tributario è strettamente collegato al reato di emissioni di fatture per operazioni esistenti riconducibili al commercio di cemento, ferro e metalli oppure all'ipotesi di mancato versamento delle imposte sui redditi o sull'IVA. Il caso più eclatante è quello di una società che operava nella fabbricazione di strutture metalliche sottoposta a verifica fiscale nel 2015, la quale aveva omesso il versamento dell'IVA per oltre un milione, grazie al sequestro per equivalente eseguito nel mese di novembre 2015, è stato assicurato tempestivamente all'erario un importo pari a circa 500 mila euro.